La situazione che si è venuta a creare tra la pubblica accusa e il Tribunale dei Minori è qualcosa di surreale a cui non avremmo mai voluto assistere. Lo afferma il Comitato Minori abbandonati dallo Stato al Forteto sulle polemiche seguite alle affermazioni della PM Ornella Galeotti rese davanti alla Commissione parlamentare d'inchiesta che l'attuale presidente del Tribunale dei Minori di Firenze, Luciano Trovato, in quello che è un vero e proprio scontro tra toghe, ha definito generiche, gravi e offensive. Nei giorni scorsi, per oltre tre ore, la magistrata aveva risposto alle domande dei parlamentari, ripercorrendo le tappe principali e le difficoltà di un processo iniziato nel 2013 sui fatti avvenuti oltre 30 anni prima nella comunità di Vicchio del Mugello, fondata da Rodolfo Fiesoli, condannato in via definitiva a 14 anni di carcere per gli abusi e le violenze sui minori ospiti della struttura. Per 30 anni si è assistito a una sospensione di tutte le regole e le leggi, aveva affermato il sostituto procuratore. Una vicenda cominciata nel 1975, quando Fiesoli fondò la comunità che negli anni successivi ha colto decine di bambini con disagio fisico e psichico. Ribadiamo la nostra piena disponibilità per poter far vedere alla Commissione parlamentare la vicenda con gli occhi di chi si è visto cambiare la vita tante volte, aggiunge il Comitato dei Minori. Le affermazioni del Tribunale dei Minorenni ci hanno fatto ripiombare in uno stato di sfiducia che non approvavamo da tempo. Ci aspettiamo una maggiore capacità di autocritica in grado di comprendere gli errori commessi in passato, in modo che non vengano ripetuti nel futuro.